Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi, dunque, ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi. Senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re. Così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo, infatti, che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose. Ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste, infatti, avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo.